va d'accordo con Giamar sono veredicto del caso qui la natura sono in 7 sospetti del caso e avuta a un anno anteriormente a un anno di Vraespra con un altro anno di condesa Giamar è numero 3 che ha un anno di 48 a lunedì 24 condizionali e per una sorpresa 4 famiglie hanno Vraespra ma questo è un anno che è non stato insuficiente in maniera convinzione per mandare alla presa La donna una frase per mezz'ora e a tardi messe la misera vai riba ordre di WSK. Aumenta il fiscale assinta la messa con l'abogato generale, l'abogato generale ha attenduto il caso di appellazione, ha avuto una riunione tra il fiscale e l'abogato generale e ha deciso di appellare la sentenza di quattro frasi, per il motivo che anche portare la prova non era convincente non si era solo per l'appellazione, e caso lo sia più migliore di un altro, ma di una maniera o di un'altra, e quattro persone qui devono avere attrazione e roba per cura. Hai visto se il Ministro del Pubblico ha deciso di entregar una peticione per investigazioni adizionali per l'appellazione? Buona domanda, sei minuto. È molto possibile che il fiscale o l'abogato generale lo abbia ordine a portare la investigazione più a fondo, per sei minuto in altra. Il trattamento del caso di assinato di Wamey, quando vai che sa che era? Non è arrivato al final, è stato che vi è stato presente in corte per responsabilizzare per un caso di roba, attrazione e anche di assinato di un gerente di un mini-marco di Wamey, di Mila Platea, e non il trattamento a comissare, però non è arrivato al final, poi vi ho chiesto di un rapporto di un DNA con un salario racion, una investigazione di DNA, che guarda il risultato, e promete il caso possibile. e poi vi ho mandato il caso per il 12 agosto, per seguire il trattamento del caso. e ora,